Come si può definire la campagna di rafforzamento del Milan? Una campagna di rafforzamento iniziata praticamente il giorno dopo la fine del campionato con l'acquisto di Mignan. Beh, io direi che un aggettivo che può essere, mi sembra che definisca in maniera esatta questa campagna di rafforzamento, direi sontuosa. Innanzitutto sul piano dei numeri. Perché prendere Mignan per sostituire Donnarumma, ed era fondamentale partire subito per colmare il vuoto che ha lasciato il portiere, che ha vinto anche il titolo di giocatore più forte dell'europeo, così giovane. Poi Contomori per completare il reparto centrale di difesa, Contonali, prospetto di campione, prospetto di giovane interessante. E lui sa che le prime partite di questa stagione, l'approccio subito con la prima squadra deve essere potente, forte, dopo una stagione, quella scorsa abbastanza altanellante. E dunque già questi tre, ma che potrebbero aggiungersi, ed ecco perché dico sontuosa sul piano numerico, altri tre giocatori come Giroud, che ormai sembra addirittura d'arrivo, Brian Diaz, e lo stesso Touré, il giocatore senegalese che arriva dal Monaco, giocatore di fascia sinistra, vera e propria alternativa a Teo Hernandez. Teo Hernandez ha bisogno ogni tanto di rifiatare, lui che tende ad andare con energia, con generosità, con forza, effettuare questi 80-90 metri. Ha bisogno indubbiamente ogni tanto di tirare il fiato, e il Milan ha scelto questo giocatore. Non dovrebbe mancare molto al suo arrivo, proprio perché ha le stesse caratteristiche, la stessa tipologia, la stessa figura di giocatore. E l'abbiamo definita sontuosa. Però, per effettuare un salto di qualità ancora più importante, e definirla addirittura eccellente, dobbiamo per forza aspettare ancora i prossimi acquisti. Dopo i tre probabili di questa settimana, il Milan si prenderà una pausa di riflessione, per lavorare, per prendere giocatori di qualità, per sostituire Celanoglu col 10, per potenziare la fascia destra con un giocatore che Stefano Pioli vuole forte, ma vuole soprattutto abile nel dribbling, e abile e prolifico sotto porta. Quindi una figura non facile da individuare, con il rischio che sia costosa, ma sono quelle due figure che serviranno per il salto di qualità del gruppo rosso-nero. Poi ci saranno altri completamente, il Milan punta su Dalot, il Milan punta su Baccaio Co, probabilmente per completare il reparto, mentre per quello che riguarda la terza punta, si aspetterà ancora a gennaio. Si aspetta a gennaio perché il Milan ha tanta voglia di prendere un bel prospetto brasiliano come Caio Giorgio per mettere lì, per mettere come alternativa giovane ai due senatoroni Giroud e Ibrahimović. Per quello che riguarda Donnarumma, il portiere ha vinto il titolo di miglior giocatore dell'europeo. Certo, per il tifosi del Milan è ancora una figura che fa discutere, però mi auguro che possano esserci le prime partite dove potrebbe e dovrebbe e deve essere protagonista Mignan per dimenticare il passato e proiettarsi anche per quello che riguarda il ruolo del portiere sul futuro, futuro che Mignan vuole e deve interpretare al meglio. Quindi questa è la situazione del mercato in questa fase. Ripeto, ci sarà adesso una pausa. Il Milan ha seminato nei mesi scorsi per raccogliere in queste prime 5-6 settimane di mercato. Adesso torna una nuova semina per poi ad agosto accontentare Stefano Pioli per quello che riguarda gli ultimi acquisti.